Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Pokémon Mystery Dungeon E' passato un bel po' dall'ultimo episodio Ma siamo qui per riprendere la serie tutti insieme L'ultima volta avevamo salvato Growvile dalle grinfie di Spiritomb, se non erro E oggi dobbiamo procedere nella nostra avventura per cercare Celebi che poi ci porterà di nuovo nel presente Alla fine sembra tutto pronto per la partenza Andiamo allora Troviamo Celebi e torniamo nel passato Andiamo Un momento, aspetta Cosa c'è? Se noi tre possiamo tornare nel nostro mondo Growvile tu continuerai a rubare gli ingranaggi del tempo come facevi prima? Beh, si lo farò E' l'unico modo per bloccare la paralisi del pianeta Ma io... Growvile non sono ancora convinto Non credere che io mi fidi ciecamente di te Sono in viaggio con te solo perché voglio tornare nel nostro mondo Se torniamo indietro, Growvile Scoprirò se stavi davvero rubando gli ingranaggi del tempo per prevenire la paralisi del pianeta Growvile, se capirò che stavi sbagliando a rubare gli ingranaggi del tempo Beh, ti fermerò, Growvile Fai come vuoi Ma ricordati una cosa L'importante ora è riuscire a ritornare nel presente sani e salvi Quindi per ora Concentrati su come tornare a casa Andiamo Va bene ragazzi, siamo carichi Anche se Manjoax non lo sembra Ma siamo carichi E ci vediamo direttamente alla fine del dungeon Eccoci qua signori Siamo finalmente arrivati alla selva oscura E' qui Celebi dovrebbe essere qui Proprio così Sì, l'ultima volta l'hai incontrato da queste parti Ma se di alga oscuro conosce questo posto Celebi sarà scappata Ma i nostri inseguitori potrebbero anche non riconoscere questo posto In questo caso Celebi dovrebbe essere ancora qui Ehi, Celebi Sono io, Growvile Se ci sei, fatti vedere Non... non si fa vedere Di alga oscuro l'avrà fatta fuggire? E se... e se... fosse stata catturata dal di alga oscuro? Catturata? Ehi, chi ha parlato? Ora non sento più niente Quella voce... me la sarai immaginata? Eh 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 Eh, non l'hai immaginata Io... catturata? Che affronto? Catturata? Impossibile Poco, ma sicuro Eccola Guardate com'è bella Eppure è shiny Ne è passato di tempo Mio caro Growvile Sì È passato un po' di tempo Celebi Eh eh? Quella cosina è Celebi Che maleducazione E quant'è inappropriato Farsi gioco di me Perché sono così piccina Eh... mi dispiace Ho sentito che sai come si fa a viaggiare nel tempo Così mi aspettavo di vedere un Pokémon Come dire... imponente Che villania Non si giudica mai dall'apparenza Ma... ti perdono Dopotutto... Credo proprio che mi trovi più carina e speciale di quanto immaginassi Eh eh... Eh... certo... Celebi Ho di nuovo bisogno del tuo aiuto Lo so... Vederti tornare qui, mio caro Growvile Mi dici già tutto quello che ho bisogno di sapere Sei tornato perché la tua missione nel passato è fallita, vero? Sì, è vero Spero che questa volta ce la farai Ne ho abbastanza di questa storia Vivere in questo mondo oscuro e monotono è davvero deprimente Perdonami, non c'è tempo per le parole I Sablai ci stanno alle costole Se non ce lo andiamo in fretta Ti creeremo solo problemi Eh eh... Eh... va bene così Non c'è bisogno di preoccuparsi Lascia che questi Sablai vengano Non mi preoccupano per nulla Inoltre, se vorrete essere così gentili da prevenire la paralisi del pianeta Finalmente potrete risparmiarci l'agonia di questo mondo di oscurità Mio caro Growvile Darei la mia vita per raggiungere questo obiettivo Va bene Dov'è il portale del tempo? È pronto È qui vicino Il portale del tempo è su un alto piano oltre questa foresta Va bene Ci puoi guidare? Sì, uscirete tutti e tre il portale del tempo Userete tutti e tre il portale del tempo? Sì, è così Oh, che... che cosa... Quel Pokémon... Cosa abbiamo noi di speciale? Wait a minute Non è molto convinta Celebi, eh? No Non può essere Qual è il problema Celebi? No Non è niente Bene allora Andiamo Verso il portale del tempo Ehi Growvile Cos'è il portale del tempo? Il portale del tempo è un passaggio che usa Celebi per viaggiare attraverso il tempo È un corridoio segreto che attraversa le dimensioni Per viaggi brevi non ho bisogno del portale Ma per quelli lunghi che attraversano molte generazioni Devo usare il portale del tempo Oh, allora se passiamo attraverso quel portale del tempo Sì, potrete tornare nel vostro tempo Oh, ecco Questa è l'entrata che conduce all'altopiano Il portale del tempo è più avanti Bene Appena pronti partiamo E ovviamente noi ragazzi siamo pronti e ci dirigiamo verso l'altare Bene Partiamo Dobbiamo farci strada verso il portale del tempo Andiamo E anche questa volta ragazzi ci vediamo a fine dungeon Adesso lo vedo Eccolo Bello ragazzi Carino È questo? Il portale del tempo? Proprio così Questo è il portale del tempo Sono passato di qua per tornare nel passato Celebi Solo tu puoi aprire il portale del tempo Procedi Certo Cosa? Quella voce? Non può essere Salve a tutti E da un po' che non ci vediamo Da 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 Dasknor Dasknor La vostra fuga Vi ha portato lontano Mi dispiace ma Ora È tutto finito Ci sono anche i Sablai Guarda che carini Dobbiamo affrontarli Ci sono anche i Sablai È stato astuto da parte tua Dasknor Ci hai permesso di muoverci liberamente Ma allo stesso tempo Non ci hai mai perso di vista E così ora Hai la possibilità di catturare Sia noi Che Celebi Cosa? Vuoi dire Vuoi dire che siamo stati Ci avete seguito tutto il tempo? Eff Non me ne ero reso conto di nulla È tutta colpa mia Celebi Oh Scusarci Non è il tuo stile Mio caro Grovail Pensi davvero Che mi possano catturare? Ehi voi Mi sedete in forma per la lotta? Eh? Puoi scommetterci? Certo Ce la possiamo fare Gli sconfiggiamo E poi ci tuffiamo nel portale del tempo Va bene Ah Dunque Volete opporre resistenza? Risparmiatevi lo sforzo Non avete Alcuna possibilità Come facciamo a saperlo? Se non ci proviamo Dasknor Tu e io Ora Grovail Sei davvero Così folle Da pensare Che sarei venuto da solo Cosa? Ora Grande di alga Ah È diventato buio pesto E qui ragazzi Potremmo avere Un Problemino Un Grossissimo problemino È proprio lui Di alga Ah Quello Quello è Grovail Cos'è Cos'è quella cosa? Cos'è quella cosa? Quello è Di alga Oscuro Cosa? Cosa? Quello? Quello è di alga Oscuro Cos'hai Grovail? Dov'è finita La tua Spavalderia Adesso? Erf Mio caro Grovail Erf È Finita Eh? Perché? Non lottiamo? Non abbiamo Speranze Dasklar da sola È una cosa Ma contro di alga Non abbiamo Alcuna possibilità Avete retto Benissimo Fino a qui Mi dispiace Deludervi È finita Ma Mi arrendo Dasklar Fa di me Ciò che vuoi Mio caro Grovail Cosa ti prende Grovail? Non è da te Rinunciare così facilmente Sì Mi arrendo Ma La speranza è ancora viva Celebi Ti ricordi? L'ultima volta Che sono trovato indietro nel tempo Per evitare la paralisi del pianeta Quella volta non ero da solo Sono tornato con qualcuno Cosa? Grovail Non sei venuto nel nostro mondo da solo È così Non ero da solo Siamo venuti in due nel passato Ma quando siamo passati attraverso il portale del tempo C'è stato un imprevisto Siamo stati separati Chi era con me Deve essere ancora da qualche parte nel passato E anche se io non posso fare più niente La nostra missione verrà portata a termine La paralisi del pianeta sarà fermata Cascronor però Ragazzi non sembra convinto Cosa? Cosa c'è di così divertente? Ah Quindi Sostieni che qualcuno È venuto nel passato con te E sentiamo un po' Qual è il suo nome? Coraggio Dicci come si chiama Perché lo vuoi sapere? Non me lo puoi dire? No Non è così Il suo nome è Ricky L'essere vivente Che mi sta più a cuore Hmm Attenzione Plattwist Eh? Cosa? Grovai? Hai detto Ricky? Beh Ricky È proprio qui Cosa? Tu sei Ricky? No Non può essere Non è così Io conosco Ricky Non è un Pokémon Ricky è Un essere umano Cosa? Per l'appunto Mio caro Grovail Questo è senza ombra di dubbio L'essere umano Ricky Cosa? Questo Pokémon una volta era un essere umano Cosa? Il grande di Alga mi ha assegnato una missione Devo liberarmi di voi Grovail E Ricky Perché siete fuggiti nel passato Ho viaggiato nel tempo al vostro inseguimento Nel passato ho acquisito le informazioni necessarie per trovarmi A un certo punto Incontrai il team Patatoni Ma a quel punto Non avverti nulla Quando Per la prima volta Mi parlarono dello squarcio dimensionale Ero molto scettico Ma poi Mi venne un'idea E Una volta essere umano Ora Senza più memoria Un essere umano Col potere dello squarcio dimensionale In quel momento Mi convinsi Non c'era alcun dubbio Era Ricky Proprio Chi stavo cercando Così Sapevo dell'amnesia che ha colpito Ricky E sapevo anche Che aveva assunto le sembianze di un Pokémon Probabilmente Ci è avvenuto in seguito all'incidente O corso durante il viaggio nel tempo Beh La perdita della memoria di Ricky Per me è stato solo un colpo di fortuna Grazie a questa amnesia Non mi ha potuto riconoscere È stato Piuttosto semplice Ottenere la sua fiducia Così Come è stato semplice Trascinare voi due nel futuro Quando è stata ora di farlo Ah Dusknoar Mentiva davvero E quindi Tu Grovail Sei rimasto l'ultimo pezzo mancante Per completare il mosaico Munchlax ha finalmente capito Chi è Grovail E Ricky Dato che siete entrambi qua Non appena ci sbarazzeremo di voi Tutto avrà fine Questo Spegnerà ogni barlume di speranza Rimasto in Grovail È finita Per voi È finita Ah 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 Dusknoar No Dusknoar Ah avete finalmente deciso Di accettare il vostro destino Grovail Ricky Ci libereremo Per sempre Di voi È la fine Per voi Ah Ehi Ricky Grovail Non potete mollare Eh Mi dici di non arrendermi Ma cos'altro possiamo fare In questa situazione disperata Dobbiamo pensare Ecco Celebi Sei in grado di portarci con la tua abilità Fino al portale del tempo È una distanza breve Non sarà facile con Dialga qui Dialga È il pokemon del tempo Ha il controllo del tempo stesso Anche se viaggiamo nel tempo Non farà nessuna fatica a trovarci Può bastare anche per un breve istante Ti prego All'attacco Eh eh È ora di viaggiare Attenzione Siamo spariti Sono Scomparsi Grande Dialga Oh sto usando il suo potere Attenzione È infranto al tempo Ecco Ci ha scovati Ah Il nostro varco temporale è stato distrutto Eccoli Siamo molto vicini al portale del tempo Tuffatevi Ce la potete fare Ora Nel portale del tempo Che ne sarà di te Celebi Non preoccupatevi per me Vi ho detto Che non posso essere catturata Fermate le paralisi del pianeta Cambiate la storia Grazie Grazie Celebi Non riuscirete a scappare Oh Scomparso Celebi Così È rimasto con un pugno di mosca il nostro Dascon Ah Poverino È rimasto un po' Un po' deluso secondo me Aaaaaa Vuoi salvare l'avventura? Certo che sì Mio caro gioco E mentre salviamo ragazzi Io vi saluto E ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao